guarda gente, stiamo in loro peccati sbaglio ecco, lo sa guarda un altro che fanno un primo di me stanno assicchiamo guarda, allora lì non sono nessuno è lo che fanno guarda la prensa è mentira ai chiusi però che ha il barragolo viernes per aliquino qui, con la ruba restaurante E' allo salto, non sono più un pendente, non sono più un pendente.